L'ultimo episodio di questo fine settimana a Roma, un giovane precipitato da Ponte Garibaldi sulla banchina sottostante per farsi uno scatto in bilico sul vuoto, ora è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Ma nella capitale da diversi anni sono in tanti a passeggiare sui ponti per farsi dei selfie estremi e sono ormai numerosi i casi di ragazzi che hanno perso la vita cadendo dal tetto di un centro commerciale o travolti sulle rotaie da un treno in corsa per la smania di farsi una foto mozzafiato. In tutto questo troviamo una sfida alla paura, un rito di iniziazione, una voglia di affermazione di sé. Mettersi alla prova è qualcosa che è tipico del mondo dell'adolescente, non riguarda soltanto il mondo di selfie. Ecco i selfie però diciamo diventano pericolosi nel momento in cui generano un processo di emulazione. Attraverso la condivisione di selfie estremi anche altri giovani possono essere invitati a ripetere il processo. E allora come aiutare i più giovani a evitare di mettersi in un pericolo mortale davanti allo smartphone? Rendere consapevole il ragazzo del significato di questo selfie e dei rischi che ci sono dietro questi selfie perché è una cosa che i giovani sottostimano sono appunto l'impatto negativo di queste esperienze. È importante far sapere che ci sono eventi come questi, che persone muoiono più da questi selfie estremi perché altrimenti il rischio è quello di vedere soltanto il lato positivo dei social.